Le elezioni regionali hanno un grande significato politico, perché gli italiani e gli elettori del Lazio hanno la possibilità di cedere per il cambiamento, per il cambiamento in questa regione che ha una pesante eredità della giunta Marrazzo e hanno la possibilità di dare fiducia al governo che sta operando bene per cambiare il paese. Abbiamo toccato molti argomenti dalla sanità, dal lavoro, dalle infrastrutture, dai problemi reali di questa nostra provincia, ma abbiamo parlato anche di politica, abbiamo parlato di un impegno vero del nostro governo a livello nazionale, abbiamo ricordato i tanti successi che il governo e i suoi ministri hanno messo in atto per salvare alcune situazioni dai rifiuti di Napoli, al salvataggio della bandiera italiana, al salvataggio di altre situazioni importanti, alle forme della scuola, dell'università, alla ricostruzione dell'Abruzzo, quindi stiamo cercando di far capire alla gente, ai nostri amici, al nostro popolo che il nostro progetto è il migliore e vinceremo anche in 10 contro 11 questa grande battaglia elettorale.